Buongiorno, siamo sotto le feste e per Natale bisogna farci i regali. Io mi sono fatto un regalo, ho deciso di rileggere, in questo periodo di Natale, un bellissimo libro, Bumil Rabal, una solitudine troppo rumorosa, Bellina Audi, è un libro bellissimo. Rabal è uno scrittore cieco, di Praga, morto vari anni fa, suicida, che ha scritto, sempre vissuto a Praga, e ha scritto dei bellissimi libri. Questo è probabilmente, non so se è il più bello, ma è quello che mi piace di più. Ha scritto altri libri tipo treni strettamente sorvegliati, quello per il quale forse è diventato il più famoso, eccetera. Ora, questo agile libretto, agile, perché sono meno di cento pagine, in effetti, la racconto, parla di Anta. Chi è Anta? Anta è un imballatore di carta vecchia. È uno che lavora in un sotterraneo dove gli arriva della carta e lui crea delle balle di carta che vanno a finire in cartiere e cose di questo genere. È un lavoro apparentemente, ma anche nella realtà, molto brutto, perché la carta che gli arriva è di tutti i tipi, da carta dei macellai sporca di sangue a tutti i tipi di carta, pulita o sporca che sia, e il suo lavoro è sempre quello. Che cosa fa lui? Ecco la meravigliosa idea di Rabal. In mezzo a tutta questa carta ci sono libri, molti libri, tantissimi libri che la gente butta via. Siamo nella Cecoslovacchia degli anni 70. Cosa fa lui? Lui questi libri sente di non poterli buttare via. E allora che cosa fa? Allora innanzitutto se ne prende moltissimi. Se ne porta a casa. Ha la casa con delle tonnellate di libri che legge naturalmente. Lui dice che è colto involontariamente. E dopo, questa fantastica idea, dentro ciascuna grande balla di carta, lui infila nel mezzo, aperto, un libro. Un libro ha una pagina giusta, la pagina che lui ritiene giusta, e questo libro se ne va insieme a queste balle di carta. Quindi lui fa un omaggio a tutti questi autori e gli mette dentro balle di carta. Ma non soltanto fa questo. Gli arrivano anche moltissime stampe di quadri di tutti i libri. Lui che cosa fa con queste stampe? Le mette fuori. Le mette sulle pareti di queste balle di carta. Questa è, diciamo, l'idea fondamentale che porta avanti. E poi il beve. È uno che beve moltissimo, beve moltissima birra. Qui c'è un aspetto autobiografico di Rabel. A proposito autobiografico anche il lavoro, perché lui per alcuni anni ha fatto molti lavori, tra i quali l'imballatore di carta da macero. È un libro estremamente colto. Perché? Perché mette insieme tutta una serie di citazioni e a volte mescolate in modo strano. Pensate, dice qua. Un pomeriggio i macellai del macello mi portarono un camion pieno di carte insanguinate e cartoni sanguinolenti. Intere cassetti di carta che io non lo sopportavo, perché quella carta mandava un profumo dolce. Io ero sempre insanguinato come un grembiule di macello. Per difesa, sentite qua, nel primo pacchetto inserì aperto l'elogio della passia di Erasmo. Nel secondo pacco deposì pienamente Don Carlos di Schiller e nel terzo pacco, affinché anche la parola si facesse carne insanguinata, aprì l'ecce homo di Friedrich Nietzsche. Mi hanno chiamato il telefono, devo interrompere la registrazione. Eccoci, riprendiamo. Sempre in quella pagina, più avanti, parlava delle mosche. Così ambe due stavano lì, aspettate un'altra. Migliaia di mosche carnarie e di mosche al cobalto e migliaia di spire volteggiavano come folli qua e là. Il suono metallico dei loro corpi e ali ricamava nell'aria del magazzino un grande quadro vivente composto da incensanti spire e zampille, proprio come la fonditura dei colori, componeva i suoi giganteschi quadri Jackson Pollock. Vedete? Questo fantastico libro pieno di salti tra una vita, il basso livello della società parla di zingare, parla di poveri, parla di abitudini abbastanza, come dire, popolari come il bere birra o ubriacarsi di birra e naturalmente poi viene elevato a livelli più alti. Ecco, ovviamente non vi racconto tutti i dettagli di questo libro. Alla fine c'è una postfazione, è un appendice che io assolutamente vi consiglio di leggere eventualmente dopo aver letto il libro, di Corrado Augas, se non sbaglio, non ricordo più di chi sia, credo sia proprio Sergio Corduas, non so perché abbia parlato, Sergio Corduas o Corduas, e ci ho capito gran poco, non ditelo troppo in giro, ma veramente non ci ho capito. La cosa però, la frase che mi sono sottolineata è, cioè il problema è se Rabal sia scrittore tipologicamente popolare o colto. Ecco questo, io direi che Rabal è uno scrittore e come tutti gli scrittori è colto, però parla ad un pubblico che può essere indifferentemente popolare o colto. Bene, quindi io vi consiglio ovviamente di leggere questo libro, sono cento pagine, si legge abbastanza e c'è tutto proprio la capacità di affabulare tipica di Bomil Rabal. Io spero che vi sia piaciuto questo, vero? Geronimo? Anche Geronimo è piaciuta e vedete Geronimo? Simpatico, è direttamente, scusate, è direttamente uscito da un quadro di Bosch, è proprio lui, è lui che è uscito da Bosch e è venuto a trovarci, tutti quanti insieme. Bene, buona lettura. Ah, vi rifaccio vedere il testo, questa è l'edizione molto vecchia, dell'Inaudi, credo che sia ancora in Audi che lo pubblica. Questo costava 14.000 lire ed è stato pubblicato questo qua, il titolo originale, eccolo qua, è dell'81, quindi l'ha scritto nell'81 Rabal. A proposito, concludo, qualcuno dirà Rabal, qualcuno dirà Rabal. Credo che il modo corretto sia Rabal. L'ho sentito ad un convegno dove c'è tutta gente esperta dell'Aderaba. Buona lettura.